In questo video parleremo dei Toast to Bar. Il Toast to Bar è un esercizio del CrossFit che prevede appunto una coordinazione fra la parte bassa e la parte alta del corpo e mette in tensione il core addominale e la muscolatura della spalla. Oggi vi spiegherò come affrontarlo. Andiamo a vedere adesso un esercizio utile per il riscaldamento di questo esercizio. Appeso la sbarra, punto di piedi avanti, gambe avanti, tensione del core e si tiene questa posizione per qualche secondo. Si torna giù, di nuovo punte avanti, gambe e tensione a livello dell'addome. Andiamo a vedere adesso come si esegue il Toast to Bar. Vediamo prima la versione strict ovvero senza sfruttare il bacino, gambe tese e si portano fino a toccare i piedi della sbarra. La versione normale invece si sfrutta il movimento del bacino e si portano i piedi alla sbarra. Andiamo a vedere adesso gli errori da non commettere nel Toast to Bar. Bisogna stare attenti a non rilassarsi mentre si scende ma tenere sempre la contrazione per evitare appunto di sovraccaricare la zona delle spalle. Ma salire e scendere nel modo corretto tenendo sempre una contrazione continua dell'addome e delle spalle. Per questo esercizio vi consigliamo PAA Plus che contiene una formulazione diversa da tutti i pugli aminoacidi presenti sul mercato. Oltre ad una particolare razio nello spretto aminoacidico, PAA Plus è l'unico a contenere la caseina idrolizzata idro C95, riconosciuta come la fonte più rapida di proteine che si possa ottenere.